la juventus ha ufficializzato calulu bentrovati bentrovati a tutti quanti voi è uno dei acquisti più importanti dell'estate della vecchia signora di giuntoli il quale dopo una prima tranche un primo step di acquisti alla conferenza stampa di tiago motta disse metteremo ancora tre calciatori un difensore un centrocampista e un attaccante ebbene per il momento mantenuto già la promessa perché giuntoli ha portato a torino un difensore perso calafiori su todibò francamente non ho mai creduto che la juventus volesse prendere quel calciatore su calafiori è stato un flop forse credo che l'unico flop che si sia verificato e poi ha puntato dritto su questo calciatore del milan che è un calciatore del 2000 ha già vinto uno scudetto con la formazione del milan per cui viene da un top club come i rossoneri l'anno scorso ha giocato molto poco circa 200 minuti perché poi è stato sempre infortunato esordito in europa league con il milan nel 2020 un giocatore francamente molto stimato a livello di ecco di panorama internazionale si è formato come terzino destro può giocare anche come difensore centrale sarà per tanti secondo me sarà proprio questo il ruolo secondo me cioè come si dice bremer calulu anche se gatti per me un intoccabile guardate però anche come terzino destro che lui in fondo nasce terzino destro e credo che l'adattamento di cambiaso e la non impiego di danilo era propedeutico proprio a all'arrivo di calulu perciò io credo che la juventus non ha mai trattato tot di bo si è fiondata su calulu ma non l'abbiamo saputo e quindi è evidente è chiaro che nella soluzione tattica di tiago motta calulo giocherà molte partite esterno basso a destra perché uno che accentra uno che ha gamba palla al piede sa giocare tanto poi è di colore e io per la verità ho il debole per i giocatori di colore perché li ritengo più forti degli altri cioè pari condizione il giocatore di colore è più forte degli altri e questo mi fa molto piacere io prenderei tutti i giocatori di colore per me sarebbe una squadra imbattibile detto questo cambiaso dunque torna a sinistra a mio modesto parere nelle scelte di tiago motta anche se a verona molto probabilmente potrebbe giocare pure alto a destra come ha giocato nel secondo tempo contro il como vedremo vedremo intanto cariulù è un giocatore molto abile molto intelligente ha giocato nel lione prima di passare al milan e poi alla juventus ha giocato in tutte le selezioni della nazione francese tranne che nella francia prima squadra deixam non l'ha mai convocato ma non mettiamo limiti alla provvidenza perché con l'arrivo alla juventus e diciamo la determinazione del giocatore stesso che subito ha accettato la juventus ricordiamolo quello che vi narrano lasciate stare ha subito di primo acchitto accettato di venire alla juventus secondo me questo è molto importante molto interessante poi le dinamiche del calciomercato hanno un po rallentato l'arrivo e gli hanno affibbiato addosso sì ma il giocatore vuole vederci chiaro ha chiamato tiago motta palle non credete a nessuno leggete il comunicato stampa e date fiducia al comunicato stampa della juventus quello vale tutte le chiacchiere e le fantoni che avete sentite non le state a sentire calulo è un giocatore che nella diagonale è molto forte diventa un centrale aggiunto se gioca terzino destro se sta bene dicono i tifosi del milan se sta bene questo è un acquisto molto interessante in tanti tifosi del milan recriminano molto del passaggio di calulo alla juventus è sicuramente un acquisto questo a mio modesto parere è importante perché è un campione non è un fuoriclasse ma un campione la difesa a questo punto viene puntellata totalmente diciamo un po rigenerata anche rispetto al passato rugani è andato via alexandro è andato via giallo molto probabilmente andrà via cambiasso viene reintegrato danilo non è che poi ha quelle grandi caratteristiche del gioco di dinamico di diago motta io credo che calulo parta proprio diciamo terzino destro basso a destra a mio modesto parere io non so voi cosa ne pensiate naturalmente ditelo anche nei nei commenti e lo vediamo lo vediamo questo giocatore che già si è allenato oggi con la juventus e che sicuramente fa parte della spedizione al bentegodi di lunedì 26 ma di questo primo modo di parlarne di questa partita di questa importante partita che i bianconeri faranno lunedì prossimo dopo la vittoria dopo l'esordio contro il como ci sarà appunto il bis si bissa dal punto di vista della delle presenze in campionato noi speriamo che ci sia un bis anche per quanto concerne la vittoria un reparto arretrato dunque molto molto particolare secondo me molto ben fornito anche perché se calulo è chiamato a giocare centrale vicino a bremer sicuramente sa il fatto suo anche come centrale per cui la difesa molto dinamica molto arcigna molto eclettica diciamo molto eclettica questo mi fa ben sperare sicuramente l'incoraggiante prestazione contro il coma che è analoga al risultato degli ultimi cinque anni ben quattro volte la juventus ha vinto 3 a 0 ma la critica soprattutto interna alla tifoseria bianconera e è incoraggiata dal modo con il quale è arrivata questa vittoria sì c'è un incoraggiamento totale intanto l'infermeria è piena ho letto un un messaggio un post sotto uno dei miei precedenti precedenti video un messaggio molto chiaro che mi ha messo a pensare per la verità ve lo dico chiaramente un messaggio dove diceva io non ci credo alla all'infortunio di Miretti quello fa così perché è una formata del procuratore e di Miretti stesso perché non vuole lasciare la juventus guardate a me sta cosa mi ha messo a pensare che dice il giocatore infortunato per cui arriva al 31 agosto rimane in rosa e poi un po il procuratore un po l'entourage buttano calci la dirigenza attuale ma anche la guida tecnica non mi pare gente che si facciano mettere i piedi in testa dal procuratore di di Miretti che poi è anche il procuratore di allegri dell'innominato dell'esonerato a proposito molto probabilmente ci rivolgeremo a chi l'ha visto la trasmissione televisiva vedere per vedere che fine è fatto dove sta tra poco usciranno lo vuole questo lo vuole quello sta aspettando che il commissario la FIGC così il nuovo presidente federale lo porta a fare il presidente il direttore dell'allenatore della nazionale chi l'ha visto andiamo a chi l'ha visto c'è la fila per per accapararsi allegri c'è la fila mamma quanta gente che c'è quanta squadra se lo contentano quindi come vi ho detto nel video precedente ci sono chiaramente giocatori in infermeria speriamo che non ve ne siano altri e comunque già si comincia a bozzare la formazione sul fronte mercato apparentemente tutto tace apparentemente tutto tace invece credo che giuntoli sia lavorando tantissimo per portare il centrocampista e l'attaccante attaccante esterno più che altro perché spero che non si tengano fino all'ultimo istante del calciomercato spero che Milic se ne va fino all'ultimo istante del calciomercato perché io voglio un attaccante che sfonda un attaccante che possa sostituire benissimo Vlaovic c'è troppa differenza tra Vlaovic e Milic troppa troppa differenza tutto questo è evidente e chiaro che la Juventus è sul mercato in maniera prorompente sicuramente è sul cup miners vedremo quale sarà l'atteggiamento della stessa Juventus del calciatore che ha già mandato tre certificati medici e non si ammorbidisce e quella dell'Atalanta allora qua l'Atalanta in questo momento tutti quanti danno la responsabilità del blocco del blocco di cup miners e diciamo naturalmente è colpa dell'Atalanta se il giocatore per il momento non passa alla Juventus o a qualsiasi altra squadra però pare che il giocatore voglia solo la Juventus come dice Gasperini che becca il 30% sulla plusvalenza quindi incassa un bel balloppetto se cup miners sarà ceduto quindi secondo me il primo che vuole la cessione di cup miners è proprio Gasperini anche se hanno frainteso per me le sue parole poi vedremo mi auguro che non viene quello della Fiorentina Nico González me lo auguro basta con i giocatori della Fiorentina portano sfiga portano sfortuna basta mi auguro che non venga ve lo dico proprio apertamente questo calciatore ma come ben sapete poi chiudo la chiosa di questo contenuto di questo video Douglas Lewis nessuno sapeva Blitz di Giuntoli arriva Douglas Lewis Turan nessuno sapeva Blitz arriva Turan Cabal nessuno sapeva arriva Cabal Calulo nessuno sapeva arriva Calulo Calafiori sapevano tutti e non è arrivato cup miners sanno tutti e chissà se arriva però guardate il portiere pure si sapeva sul portiere c'era la larga intesa con con Galliani quindi praticamente si seppe la notizia e poi è l'unica notizia che si è saputa di essere andata in porto io credo che Giuntoli ci stia riservando qualche sorpresa qualche sorpresa e probabilmente potrebbe arrivare qualche nome che non è stato ancora fatto poi solitamente Giuntoli pesca l'80% sul mercato estero così era anche a Napoli e a parte Calulo e lo stesso portiere anche Cabal quest'anno si è un po' allargato quindi credo proprio che sarà sedacciato il mercato estero perché questa percentuale il direttore generale della Juventus non vuole eluderla mi fermo qui vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube Sergio Vessicchio ad attivare la campanella delle notifiche e a mettere un like se non ritenete opportuno alla prossima grazie a tutti grazie a tutti